Ciao a tutti amici della rete, oggi siamo in compagnia di Alessandra Rigano. Rigano o Rigano? Rigano, l'hai beccata subito, di solito ci impiegano due o tre mesi. Perdonami perché da bravo italiano ho messo l'accento sulla penultima perché siamo tendenzialmente abituati a mettere gli accenti in questa maniera, romano e non romano. Faccio semplicemente con questa tipologia di ragionamento stupidissimo. Comunque detto questo, bene, ho scoperto una cosa nuova di te. Alessandra Catanese. Yes, catanesissima. Indominate un po' perché l'ho invitata oggi, per continuare a parlare di un argomento che tanto ha scaldato gli animi di chi segue questo canale negli scorsi giorni. Ne abbiamo già parlato in un video che vi metterò da qualche parte in descrizione, qui o là, come fanno gli youtuber, quelli seri che dico e vi metterò il video tipo qui. E vabbè, ve lo metto in descrizione anche alla fine di questo video, come suggerito, è una chiacchierata che ho fatto con Giuseppe Bob Liuzzo sulla questione dell'identità del progetto di rebranding dell'Università di Catania. È stata una chiacchierata interessante, però volevo sentire un altro punto di vista per cui, Alessandra, ti ho invitato. Grazie per averlo fatto. Proprio perché avevo letto quel tuo post su Medium, che tra l'altro è una lettura brevissima e super interessante, anche divertente da fare, dura tre minuti più o meno, nel senso, ve lo lascio in descrizione questo, così potete andare a leggerlo. E nulla, secondo me era interessante sentire anche la tua visione delle cose. Premesso che, Alessandra, io e te ci conosciamo dal 2016 perché abbiamo partecipato insieme ad un laboratorio, guarda caso, di coprogettazione. Ma guarda un po'. A Bari. Tra un caso. Durante i lavori, diciamo, di creazione di quella che è stata tipo la scuola open source. Giusto? Poi ci siamo rivisti anche... A Catania. Ci siamo rivisti a Catania, ma ci siamo rivisti... Ci siamo rivisti da qualche altra parte, forse no. Vabbè, comunque... Probabilmente anche sì, però ti abbiamo avuto a Catania... Esatto. Per il creative dot. Esatto. Su bello. Insomma, anche tu sei una di quelle persone che ho fatto fatica a capire di cosa ti occupi in questo momento. Che diavolo ti occupi? Esatto, che ti occupi di un po' di cose. Ti muovi subito. Sì. Cioè, faccio cose, vedo gente come al solito. In realtà in questo momento, già da quasi quattro anni, lavoro in un'azienda. Sono una head of design, come si può dire. Ammazza. È divertente, però. In un'azienda che si occupa principalmente di tecnologia. Quindi questo lo faccio da quattro anni, in realtà. Però schizofrenia totale, perché da un lato super interessata alla tecnologia, al design dei servizi, dei sistemi, queste cose qui. Dall'altro, però, sono anche super fissata con la carta, con l'editoria, con l'artigianato. Quindi poi mi faccio le mie cose con Avaya, che è un'associazione che ho fondato con degli amici di lunga data. Questi. Esatto. Quella cosa che mi è piaciuta. Grazie infinite, grazie infinite. E poi da un po' ho iniziato anche a insegnare, che era un po' una delle cose che volevo tanto, tanto fare. In Abadir, che è un'accademia di qui, che però, insomma, devo dire che ha un respiro veramente abbastanza internazionale. Insegno design 1, la materia fondante, insieme ad altre due belle persone, che sono Elisa Raciti e Gio del Luca Monaco. e ci siamo divisi un po' questa grossa materia. Quindi io faccio il modulo di progettazione della narrazione. Wow, dai. Sì. Insomma, questo è il primo anno, quindi non vedo l'ora, io ancora non ho iniziato, quindi sono nella ricerca super fremente in questo. Però sì, alla fine, voglio dire, che dal punto di vista dell'approccio al design, quello che mi interessa di più è un po' il processo. Ed è questo il motivo per il quale di fatto ho scritto quell'articolo lì. Perché al di là della questione grafica che avete snocciolato insieme a Bob, io lo chiamo Bob perché da queste parti lo conosciamo così, e insomma io non mi sento di aggiungere assolutissimamente nulla, avete ampiamente esplorato l'argomento. In realtà avete anche un po' toccato verso la fine, no? L'argomento della comunità, del capire, progettare per la comunità, come funziona. Questa parte qui però, secondo me, è rimasta veramente molto fuori dal discorso globale, no? Esatto. Ma veramente tanto, perché all'argomento è solido. E pensiamoci un pochino dentro, nel senso, perché a me è piaciuto tantissimo quel discorso che hai trattato, diciamo, nel tuo post su Medium, no? Dove fondamentalmente dici, cioè, appunto, a prescindere dall'output grafico e a prescindere da tutte le pippie che ci possiamo fare su questo concetto qui, il discorso è che quando si progetta per la comunità, no? Si potrebbe magari cercare di coinvolgerle un minimo di più e... perché altrimenti il risultato sarà sempre il solito, no? Esatto. Nel senso, è qualcosa che viene imposto, diciamo, dall'alto e poi non ci si può stupire se le persone magari non si sentono rappresentate o banalmente non gli piace quel vestito, no? E nulla, no? Ti lascio la parola di questo posto. No, in realtà, ovviamente, si può approcciare la questione da un punto di vista, poi, della qualità del risultato, però quello che mi interessava dire, ovviamente poi io scrivo anche quando sono alterata, quindi di solito c'ho questo sarcasmo maledetto che non riesce fuori. È molto più bello. No, è l'unico, altrimenti non scrivo nulla. Se non so sta verba un po' fastidiosa, di solito non scrivo niente perché sennò diventa di un noioso impressionante. Però di solito è questo quello che... Cioè, mi interessava parlare direttamente, no? Con l'istituzione e dire io so che non te ne frega niente poi alla fine di avere un buon risultato, no? Cioè, lo sappiamo tutti, è inutile che ci prendiamo per il culo. Non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è che poi tu ti vuoi portare a casa il risultato. In questo caso specifico, qual era il risultato? Quello di uscire fuori dall'impantanamento che in realtà l'università aveva avuto negli ultimi periodi. Grossi scandali, problemoni a livello di, insomma, giuridici vari, nuovo rettore, nuovo approccio. E quindi devi dare una nuova immagine, un'immagine fresca, di rinnovo. È perfettamente comprensibile perché è quello che vuoi realmente fare. Buone intenzioni. Però se vuoi veramente farlo e quindi vuoi che poi alla fine le persone non entrino sempre nel solito loop che abbiamo visto noi che facciamo parte di questo ambiente, milioni, milioni, milioni di volte. Il madre, non so se ti ricordi, la storia della madre. Guarda, è il primo progetto a cui ho pensato. Immediatamente, immediatamente. perché le fluff, ovviamente, no? Le fluff. Lì, poi mi posso anche sbilanciare. Io personalmente ho apprezzato moltissimo, però poi ad ognuno le progetti. Ah, sì, io sono sempre stato tipo uno dei sostenitori del progetto. Mi è sempre piaciuto molto. Assolutamente. In quel caso che veniva accusato di essere eccessivamente minimale, 20.000 euro per una scritta, no? C'era sempre quella famosa retorica. Questo giallo è uno scritta che ne metti. I memoni. Quello che credo sia stato uno dei primi brand ad essere bemati fino alla morte. Quindi sappiamo che questo succede anche quando il risultato ha perfettamente senso. E quindi come facciamo ad uscire da questo solido principio che riguarda, tra l'altro, poi addentro tutta una serie di tensioni non dette, o forse anche dette eccessivamente, no? Parliamo sempre del discorso della restituzione del sud con lo studio del nord. Allora immediatamente, se prendi lo studio del nord, non va bene. Perché lo studio del nord non è del sud. Se prendi lo studio del sud, è scarso perché è del sud. E quindi non c'è una soluzione da questo punto di vista a priori. Cioè non c'è una scelta giusta da fare, credo, a priori. Probabilmente l'unico modo, almeno che mi viene in mente in questi sette minuti in cui io scrivo l'articolo, è quello di, in realtà, vabbè, lo sappiamo che la pensiamo un po' così in generale, però probabilmente c'è un problema di fondo che non sta nella realizzazione grafica del logo, non sta necessariamente nell'attribuzione della commissione ad un'agenzia, ma sta proprio nella maniera, innanzitutto da quello che ci si aspetta, da un rebranding di parte dell'identità dell'università. Perché ricordiamo, la verità è che questo è un logo commerciale e che quindi non intacca, tra l'altro, tutto il resto. Quindi è proprio dichiaratamente una soluzione di facciata. Ed è stata anche una maniera con la quale si sono anche un po' giustificati. No, no, ragazzi, tranquilli, ma stiamo facendo soltanto la facciata. E' solo per le magliette, raro. Magliette e schimbiate. Tranquilli. Solo per le magliette. Ok. Tutto il resto rimane esattamente come era prima. Aha. Ottimo, ok. E no, è questo messaggio qui che cerca di essere rassicurante di fatto esattamente il problema. Perché il messaggio che arriva è esattamente questo. Cioè stiamo cercando di rifare un paio di magliette da vendere, ma tutto rimane esattamente come era prima. E quindi come fa questo concetto? È il concetto del comunque come dobbiamo sembrare da fuori, lo decidiamo noi per voi. Come fa questo concetto ad essere accolto in maniera decente da qualcuno? Credo che non sia possibile. Onestamente credo che non sia possibile. Tu che ne pensi? Voglio farti anche le domande. Allora, il discorso è che io... È una cosa che mi capita di pensare solamente in determinati casi, perché ovviamente non faccio loghi o identità per mestiere. Nel senso che, per carità, io mi divido tra il lavoro dell'illustratore e il lavoro, diciamo, che portano avanti invece con il mio studio. Ma lì comunque noi lavoriamo praticamente sulle lettere, quindi calligrafia, lettering, type design e anche illustrazione magari con altri linguaggi. Però siamo estremamente, diciamo, su certe cose. Per cui ci capita anche magari di lavorare, diciamo, sul segno di un logo, ma solo sul segno di quel logo. Mai sul progetto più complesso. Per cui sono cose che un pochino mi sfuggono. Però, diciamo, io ritengo che, secondo me, ci possa essere un modo, quantomeno per indorare la pillola, no? Nel senso che... E mi piace il sarcasmo... Nel senso, tu effettivamente dici ad un certo punto, adesso non è che voglio citare in maniera penissima quello che dici tu, però giungi, diciamo, alla conclusione che potrebbero anche magari coinvolgere la comunità a cui si rivolge, no? Diciamo, questo nuovo lavoro di branding e magari rendere la parte, perlomeno, del processo. Io, per l'esperienza che ho avuto, in parte ci credo. Io, in realtà, credo sempre di più che, tipo, i loghi tradizionalmente intesi siano pallosi. A me piace, tipo, quando è il processo, capito, che sta dietro quel logo che, diciamo, poi ti porta, diciamo, ad avere un'immagine, no? Come i progetti che abbiamo sviluppato, diciamo, per la scuola open source, no? Cioè, nel senso... Assolutamente, sì. Quello è un baluardo, in questo momento, in realtà, il credo, di questo tipo di approccio. E sono anche convinta che una cosa, una domanda che ti facevi nella precedente puntata mi ha colpito particolarmente, perché è una domanda che mi sono spesso fatta anch'io, ovvero, però, quali sono i downsides, no? Della progettazione condivisa? Cioè, è veramente la soluzione? Cioè, non ha delle problematiche, della democratizzazione totale, no? Cioè, che ruolo vuole? Sì, sono delle cose che io mi faccio sempre, nel senso perché è molto facile adesso, anche con gli strumenti che abbiamo a disposizione negli ultimi dieci anni, che abbiamo, diciamo, imparato ad utilizzare negli ultimi dieci anni, no? Rendere il processo di progettazione di un'unità sempre più condiviso e coinvolgere sempre quante più persone possibile. E banalmente, diciamo, quello, no? Per un'istituzione che non c'ha voglia di fare un cazzo e che non ci crede, potrebbe anche andar bene, no? È il classico di, come dicevi te, nel senso, ma fai perlomeno finta, no? Di coinvolgere le persone, no? E ok, fin lì ci arriviamo. Però poi, interrogandosi seriamente, uno si chiede poi sempre, per esempio, qual è il limite, però, di questa pratica, no? Fino a quando puoi coinvolgere, no? Le persone che non hanno una formazione come la tua, perché tu comunque sei l'esperto di identità, no? E per cui, qual è il limite? E soprattutto, esistono dei contro di questa pratica, perché comunque creare un logo non è semplicemente, diciamo, una formula matematica perfetta, un algoritmo che devi per forza necessariamente imbloccare quei tre passaggi e ottieni un logo. Sì, banalmente potresti anche ottenere un logo, ma un logo, non tutti i loghi potrebbero essere potenti alla stessa maniera, no? Perché ci sono comunque quelle cose, cioè quella del design è una disciplina che per quanto cerchiamo di minarcela, comunque ha una componente e io rabbrividisco per dire tipo questa parola, artistica, no? diciamo, comunque è importante, nel senso che non è ingegneria. Artistica nel senso di... Nel senso che io posso metterci... Anche di artigianato, nel senso del sapere dell'arte. Io designer, comunque, cioè l'interpretazione del singolo nel momento in cui si mette a lavorare su un qualcosa è molto importante, no? Cioè, è come dire, per esempio... Fammi prendere, diciamo, tipo un logo che potrebbe funzionare. Adesso ci sto pensando e non me ne viene uno tipo in mente. Ovviamente. Possiamo mettere dei loading in questo momento sullo schermo contemporaneamente? Fatto stacchino, esatto. Cavalli che passano. Esatto. Fatto stacchino, nel senso, quando si progetta tipo un'identità, nel senso, non è semplicemente ok, parlo di... Sono una compagnia tipo di volo. Mi chiamo American Airlines, quindi banalmente tipo aquila uguale a America, America anche tipo cromaticamente blu e coso, qualsiasi aquila colorata di blu e di rosso può andar bene. Comunque c'è tutto il segno, non comunica semplicemente il risultato di uno più uno uguale due. Le scelte in questo campo non si prendono semplicemente in questa maniera qui e c'è una componente di pancia in moltissimi dei loghi tipo che c'è capito di quello che sente il team di designer che ha sviluppato quel progetto che è importantissima e spesso e volentieri fa la differenza. E allora la domanda che io mi sono sempre posto anche quando ho partecipato a questo tipo di esperimento è sempre stato tipo ma qual è che il limite non si rischia di rendere meno potente il lavoro di quel team diciamo proprio perché sarà la mediazione tra tante cose e nessuno invece può dire ok andiamo alla carica tipo con questa idea che secondo me spacca un potenziale tipo esagerato che è audace bold e coraggiosa no? Chiaro Guarda secondo me io mi sono fatta mille volte questa domanda e ho cercato di rispondere in diversi modi che poi cambiano sempre tra l'altro anche in base alle esperienze che facciamo di volta in volta io penso innanzitutto che evitando l'effetto too many cooks cioè evitando quindi l'effetto del ok tutti abbiamo la stessa voce in capitolo su tutto cioè il punto è che processi del genere vanno progettati a loro volta no? cioè non è un progetto per il quale basta semplicemente che tu metti dentro una stanza quattro designer diversi e sette persone di un posto perché quello che ne uscirà fuori probabilmente sarà uno sterminio cioè nessuno vivo sì sì se per sbaglio c'è un coltello la gente si sgorza ma troveranno il modo di farlo anche senza strumenti credo impareranno delle arti marziali quindi innanzitutto processi del genere secondo me hanno bisogno di paradossalmente grande enorme struttura per funzionare quindi anche per questo che è tendenzialmente molto difficile che vengano messi in pratica perché comunque io credo che anche dal punto di vista non solo della committenza che non ha idea di quello di cui ha bisogno anche se poi però quando si parla di committenza pubblica in realtà ormai come scrivevo sono veramente ormai praticamente costretti talmente costretti che ti faccio questo esempio super banalissimo però il comune di Catania ad esempio fa questa cosa tenerelli tenerelli loro devono mettere in atto che ne so un processo di coprogettazione per la città dal punto di vista più urbanistico e fanno ogni anno da due anni un form su google forms in cui mettono quattro foto di quattro punti di Catania un titoletto e tu devi votare quale che ne so puoi venti alberi in piazza che ne so duomo oppure preferisci due fontane in più e quello è il processo di coprogettazione hanno fatto perché gli devono dire all'Europa che lo devono fare per forza e quindi questi poi sono ovviamente i problemi dell'essere costretti a farlo quando non hai idea di come comportarti però a volte anche l'agenzia tradizionale ora non sto parlando di questo caso nello specifico però tendenzialmente le agenzie voglio dire fanno il loro lavoro giustamente tu gli commissioni qualcosa e fanno quello che devono fare cioè sono dei processi che entrano in gioco secondo me soltanto in casi specifici non è che adesso arriva necessariamente il committente X e tu immediatamente devi coinvolgere 74 persone che devi mettere insieme per far tirare fuori un buon risultato secondo me questo discorso funziona esclusivamente quando si tratta di dinamiche così complesse come quello di un'istituzione che non è soltanto una comunità ma è anche tante comunità che hanno ruoli diversi e hanno dinamiche complicatissime che vanno avanti da qualche centinaio di anni quindi è mettersi dentro un sistema veramente complicatissimo e quindi se ognuno ha il proprio ruolo se ci sono delle dinamiche ben ben organizzate probabilmente questo discorso è possibile provarlo e poi il punto non è neppure soddisfare tutti cioè l'obiettivo ovviamente non è ovviamente certo ma non ci sarà mai nessun oggetto nessun'identità che è soddisferato tutti tipo al cento per cento ma fa parte anche diciamo del tanto voglio dire citiamolo un'altra volta perché ultimamente tutti lo citano anche senza mai aver letto tipo uno scritto però quando Mari diceva che il design è un atto di guerra diceva cioè significava anche il fatto che qualcuno lo scontenterai a qualcuno caccherai comunque profondamente il cazzo e qui bip bip perché sennò vabbè il tuo pubblico ormai lo conosce perfettamente ma figuriamoci e sì perché poi allora il punto è anche muoversi in tutto questo in una dinamica stranissima tra la retorica che poi assumono parole come quella della coprogettazione no perché ormai no è una di quelle cose che tanto la ripeti quanto poi a un certo punto perde il suo potenziale e quindi è muoversi tra la retorica delle cose e poi il fatto che fondamentalmente devi portare a casa un risultato e quindi quel determinato termine ha un suo valore intrinseco un'altra di queste parole è inclusione quando dici inclusione madonna ormai no che tipo di orticaria ti viene quando dici la parola inclusione sì la stessa di quando sento resilienza cioè proprio reazione cutanea immediata io lo capisco perfettamente però no il problema è l'utilizzo criminoso che si fa della parola no l'utilizzo che si fa per coprirsi da da vari attacchi che arrivano da qualsiasi parte la si utilizza talmente tanto che poi adesso vuol dire che qualsiasi cosa deve averci dentro tutti no e quindi la citazione che hai fatto significa appunto che qualcuno fuori rimane ma questo non vuol dire che tu lo stia escludendo a priori che tu decidi di escludere qualcuno a priori il punto sta nel valutare se dentro il tuo cerchio di valutazione hai messo le persone che hanno bisogno di starci dentro poi quelli che ti spaleranno merda addosso ci saranno comunque però la tua stessa gente ok quindi parliamo di professori accademici persone alleate studenti cioè se la shitstorm arriva da qualsiasi pala rotante probabilmente qualcosa è mancato guarda la valutazione che faccio veramente lo scrivevo è esclusivamente utilitaristica in questo discorso cioè senza fare troppo i i i benefattori o stare lì a pensare a grossi sistemi cioè veramente dal punto di vista di quello che ti ritorna indietro basta semplicemente che tu è una cosa che facciamo anche un po' noi con i clienti dai diciamoci la verità molto spesso con i clienti come funziona che tu gli devi anche un po' far entrare gli devi anche un po' far pensare che l'idea era mezza loro è il trucchetto proprio del venditore base diciamoci la verità queste cose non le abbiamo di certo inventate noi ed è un po' lo stesso principio poi se lo fai con intenti nobili il risultato sicuramente sarà migliore di quello che ne uscirebbe altrimenti però è proprio una questione di rivalutare un attimo questa sorta di circolo vizioso nel quale ci siamo impantanati il quale ormai veramente ti assicuro che in quanto tra l'altro io faccio parte di quella categoria di persone che continuano a stare dove sono nate e continuano a lavorare dove sono nate quindi non faccio parte di quelle belle persone che ci vedono meglio perché stanno fuori fidando qualcuno e quindi capisci bene che da questo punto te la sei presa un pochino no ce la si prende sempre queste figure infatti io non me la sono presa e dicevo sì ok perché sono un salentino che sta fuori da salentino e qui guarda la sua parte beh sì tu facevi parte di quella di quella fetta no perché poi facciamo la parte dei rosigoni quindi non è neppure bella no ma ci vuole lì poi mi diverto un sacco ad alimentare queste cose che non esistono però no però la persona che rimane qua e che si vede passare insomma un po' tutto davanti è particolarmente frustrante ovviamente tra l'altro io sono una di quelle persone che sostiene che non per me se avessero sono molto felice che l'abbiano assegnate i mille tra l'altro ho letto in un articolo prima di venire qui con te che c'erano anche delle altre agenzie tutte del nord che erano state valutate esatto tra cui anche i ragazzi di Gammy Industries che ti citavo prima che sono stacco super humans di Roma super humans esatto anche loro ma ovviamente aziende oggettivamente tra le più quotate che esistono in Italia ma chi può dirgli che hanno fatto male a fare questo tipo di scelte soprattutto anche con il prezzo che hanno pagato che purtroppo hanno dovuto rivelare prezzo abbastanza ridicolo credo per qualsiasi tipo di identità il che comunque ritengo che non sia probabilmente una cosa super fantastica ma queste ovviamente sono delle valutazioni che si fanno per i fatti loro però non ci possiamo neanche poi domandare insomma quali siano i risultati però questo è un altro discorso ancora però voglio dire che continuare a vedere questa cosa che succede in maniere diverse però ogni santa volta la stessa comincia a diventare il problema è anche che comincia anche un po' a passarti la voglia di reagire in qualche maniera in molti casi è capitato nel senso che alla fine tra l'altro come queste a un certo punto si perde esclusivamente l'interesse scrivevo anche questo cioè alla fine tutto questo polverone che si alza ci rimane qui e ci rimane sotto forma di ennesimo eco mostro del graphic design esatto cioè rimane come un segno mozzato nella maggior parte dei casi perché non essendo stato accolto con grande entusiasmo ovviamente non anche se fosse stato accolto con grande entusiasmo non avrebbe avuto grandissime speranze lasciami dire ma soprattutto perché succede questo ovviamente poi non c'è nessun tipo di investimento nel portarlo avanti però viene adottato perché i soldi sono stati spesi e quindi rimane questa specie di roba che vedremo poi come verrà applicata ma nessuno se ne preoccuperà granché e quindi semplicemente l'università si ritroverà a doverlo adottare nelle modalità che vedremo a breve insomma posso farti una domanda perché questa cosa mi interessa moltissimo da persona insomma catanese come sei venuto a sapere tu di questa storia cioè perché mi interessa capire quali circoli ha beccato dal punto di vista nazionale ci penso un attimino perché non me lo ricordo come ci sono arrivato credo se non sbaglio mi è arrivato devo essere iscritto a qualche gruppo di diciamo tipo di grafici di cose ok roba da grafici di queste cose così sì tipo non mi ricordo adesso quale gruppo in particolare però diciamo che è stato fortemente contestato tipo all'interno di questa roba qui di questa cerchia di 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 qui e e credo che mi sia balzato all'occhio in questa maniera poi poi cosa è successo che sono andato a vedere chi chi effettivamente l'aveva realizzato cercando un pochino di di notizie in rete perché era stata fatta diciamo una rassegna stampa per cui comunque c'erano un po' di articoli che parlavano appunto anche delle delle aziende perché ero curioso di sapere chi che l'avesse realizzato e sono riuscito a capire che poi appunto era opera di di minne e niente poi da lì gioco il fratto poi da lì è nato tutto sì poi ho visto il il post di Bob su Facebook ho detto ok devo per forza tipo parlarne con lui perché comunque mi era piaciuto diciamo l'approccio e vabbè perché lui mi piace diciamo come persona no è anche diciamo bello tipo un animale da palcoscenico no che sa tenere diciamo il palco per cui vabbè ci tenevo comunque a perché lo seguo comunque da un po' per cui ci tenevo comunque tra l'altro io ci siamo conosciuti diciamo durante quella live perché ah non avevate avuto modo no 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 però ci tenevo a farmi una chiacchierata con lui per cui ho detto questo è l'argomento tipo ideale per poter chiacchierare insieme a Bob e niente però ormai tanto di questo no dico se non altro comunque sicuramente nella c'è gli scossoni nella nell'ostrambiente fanno fanno discussione fanno fanno discussione questo ci intrattiene ma allora ma vedi nel senso perché parlare di queste robe qui parlandone cosa facciamo probabilmente niente se alziamo soltanto la polvere però comunque è bene anche che se ne parli e non tutte le critiche nel senso sono fini allora ci sono i classici vizi perché veramente su questo logo è stato veramente detto qualsiasi roba ma d'altronde come su qualsiasi altro progetto come sul madre come sul nuovo logo dell'Inter ormai è un rumore è un rumore bianco che ti porti dietro con ci sono sempre i soliti commenti tipo mega stupidi ah ma allora ma mi ricorda tantissimo quest'altro logo cioè tipo una volta ho disegnato tipo un pattern per un negozio dove c'erano degli occhietti e una tizia le ha viste tipo sul profilo instagram delle ragazze che avevano questo negozio e gli ha scritto tutta indignata avete rubato il logo della Ferragni ma no ciccio abbiamo disegnato un occhio beh zia allora nel senso l'occhio è abbastanza un archetico universale nel senso se lo sintetizzo se a cento persone che fanno il lavoro del grafico gli dico di sintetizzare un occhio arriveranno più o meno tutti alla stessa 80% stesso risultato che purtroppo è anche diciamo la stessa cosa che ha fatto il tizio che ha partorito il logo della Ferragni nel senso che c'è quest'occhio con gli eyelashes tipo con le ciglie super pronunciate conosco conosco e allora tipo il livello diciamo dei commenti poi è sempre così allora questo logo di quella squadra di basket tipo dei boh i pachidermi di Seattle l'avete piaciuto da loro tra l'altro tra l'altro hai utilizzato devi sapere che c'è un retroscena perché Catania viene molto spesso chiamato la Seattle ah non lo so più lo vedi per la scena musicale negli anni 90 c'è stato questo non so chi diavolo se la sei uscita fuori questa sta cazzata però insomma abbiamo avuto dei bei momenti e niente benissimo va bene no in realtà quindi comunque ci sono dei modi diciamo per quantomeno darla a bere diciamo le persone e coinvolgere un prezzo di più su via volevo lasciarvi con questo messaggio di grande positività di grande speranza nel domani no allora mi sembra anche almeno provaci a prendermi per il culo nel senso probabilmente ho raggiunto degli alti livelli di cinismo la verità poi vera è che mi strugo internamente con le mie gastriti per cercare di capire se realmente esiste una maniera per però è normale che poi alla fine quello che c'è fuori probabilmente sia il sarcasmo però posti come adesso vorrei ricitarlo perché mi sembra anche importante dato che è stato il nostro luogo di incontro però io penso che posti come la scuola per source ad esempio sono veramente sono dei terreni di ricerca poi peraltro che mettono al centro non hanno le risposte alle domande semplicemente si pongono le domande super giuste e si spaccano il culo per cercare le risposte e questo secondo me è uno di quegli argomenti che andrebbe sempre di più messo sul tavolo va bene dalle istituzioni economiche che fanno partire dei banni con la coprogettazione in mezzo allora tutti quanti si svegliano però facciamo così domandiamocelo noi che facciamo questo lavoro lasciamo perdere il committente allora domandiamoci possiamo provare ad introdurre nelle nostre diciamo nelle nostre attività progettuali non dico una ricerca di senso perché questo ognuno lo fa a proprio modo non è quello il discorso quello poi riguarda la qualità del lavoro di ognuno però portare avanti non soltanto una specializzazione o un avanzamento dal punto di vista tecnologico o esclusivamente votato al tecnico in tutti i sensi ma anche in termini di processo perché alla fine quello che facciamo riguarda tantissimo aspetto del processo per me la risposta è semplicemente questa in questi casi l'identità deve essere il processo non deve essere il segno grafico io tipo 93 minuti di applausi continuo continuo a suggerire tipo una lettura tipo microscopica che porta via veramente 10 minuti del vostro tempo che è il manuale di identità non coordinata adoro di immagine non coordinata tipo di di Corraini è scritto praticamente da da Stefano Caprioli e Pietro Corraini e costa tipo 10 euro e fa capire come ci si possa diciamo approcciare con degli esempi stupidissimi semplicissimi poi è anche datato perché lo troverete anche è veramente è grande così 10 anni fa più o meno il formaggio il formaggio ti fa capire come funzionano le cose il formaggio di capra tipo dell'Alpe ti fa capire veramente tantissime cose io tra l'altro se sta roba vi interessa vi metto il link in descrizione così potete recuperarlo perché comunque è una di quelle cose che non si può non avere io lo consiglio tipo adesso devi sapere che sono diventato docente di graphic design tipo al corso di graphic design 3 all'Accademia di Belle Arti di Macerata tutti i ragazzi che si stanno approcciando mi dicono professore vorrebbe farci tipo da relatore di tesi vogliamo fare un logo ecco leggetevi sto libretto poi poi ditemi volete veramente fare un logo bene io ti ho avuto come diciamo figura di riferimento una cosa che ci dicevamo tanto era insomma un giorno quest'uomo avrà degli alunni che informerà quella spaghettata sul terrazzo spettacolo eh ragazzi io in realtà sono un cuoco rubato diciamo alle cucine le braccia rubate alle cucine no per fortuna utilizzi le tue braccia sia per il design che per le cucine va bene adesso che ce la siamo cantata un pochino possiamo anche salutare le persone che ci stanno seguendo io vi lascio un pochino di linkini per poter seguire Alessandra ve li lascio in descrizione voi ovviamente fate tutte quelle cose bellissime che fate solitamente davvero condividere tipo questi questo video aumentare tipo i flame tipo a dismisura comportarvi delle persone estremamente incivili mandando tipo mandandoci a cagare perché probabilmente ma totale insulti anche in privato a noi piace tipo il contraddittorio per cui nel senso riempiteci di insulti no scherzi a parte comunque spero che questo video vi sia piaciuto io Alessandra ti ringrazio per esserti prestata diciamo ma grazie veramente a te per aver pensato di continuare la conversazione grazie davvero e nulla un saluto a tutti ciao ciao